Fere, dimmi, sai che cosa dobbiamo fare oggi? Sì, dobbiamo sopravvivere alle bombe! Già, sei pronta? Sì, tantissima! Sicura? Sì, io sono felice, mi piacciono queste ambientazioni molto esplosive, sono felice! Allora che mapo vorresti? La città, la foresta, la collina, l'ufficio... Ma sono troppo! Parco giochi! Cosa? Parco giochi? Parco giochi! Facciamo questa? Sì! Va bene! E ragazzi, come va? Io sono Fieri, Niki! E io sono sempre che si giochiamo a Minecraft! Più precisamente oggi giocheremo a una custom map che si chiama Survive the Bomb! Non mi ricordo più! Sì, qualcosa del genere! Non mi ricordo più! Comunque il succo è che dobbiamo sopravvivere a delle bombe che ci cadranno sopra la testa! Quindi speriamo bene e speriamo di riuscire a sopravvivere il più possibile! Esattamente! Un po' somiglierà a The Flurislava! Perché praticamente arrivano delle bombe che formano fuoco, lava ovunque, distruzione! Il nostro obiettivo sarà quello di sopravvivere più a lungo possibile! E sarà sia una sfida tra me e ferie, sia un po' una collaborazione, sia un battere se stessi con nuovi record! Mi piace un po' il battere se stessi! Ti piace? Sì, molto! Perché comunque è una delle cose... Per dare più motivazione! Esatto, esatto, esatto! Quindi mi hai detto che vogliamo partire dal Dean Park, giusto? Quindi dal Parco Giochi! Andiamo, dai! Vediamo un pochettino come funziona! Allora, scappa! Eh, io... Ok, eccomi! Stem, sei incastrata! Perché siamo incastrati? Ok, 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 ok! Ok? Sì! Io ci sono! Io ci sono! Bene! Sto correndo da una parte all'altra! Ma lo spazio è davvero ristretto! Ma quanto è difficile! Ferre, aiuto! Ok, Steph! Cioè, allora, sei resistito un po' di pioggia a qualcosa! Lo so, hai in mente un posto dove stare per sopravvivere, Ferre! Eh, no, lo so, io sto andando in alto! Sto andando in alto per cercare di avere... Ma tutti tu le prendi, accidenti a te! Oh no, sono caduta di sotto! Allora, io vado qua! Poi vado qui! Vado qui! E non posso salire le scale! Mamma mia, Steph! Mi stanno cadendo tutte le bombe addosso! Aiuto! Ferre, io ho trovato un punticino perfetto! Mi vedi? Eh... Sopra di te! Sopra di te! Guardami! Ok, sì, ti ho visto! Eh, non mi puoi più raggiungere! Le bombe hanno vissuto la strada! Hanno vissuto la strada! E quindi devo rimanere qua! Concentrata! Concentrata! Allora! Posso fare, Steph! La zona vicino alla chest! Oh, cavolo! Cavolo! Aiuto, Steph! Sto per morire, Steph! Non ho notato, Ferre! Aiuto! Non so più dove andare, Steph! Aiuto! Sono quasi caduta! Sono morta! Sei ancora vivo? Sì! 50 secondi! Allora, credo che quando uno dei due muore, comunque, si interrompe anche per l'altro! Ho notato! Quindi siamo durati 50 secondi! E io ero sopravvissuto! Quindi, ho notato che non può essere quindi una sfida tra me e te! Esatto! E' una sfida cooperativa! Sì, è bella, è bella, è bella! Ok, dai, 50 secondi non è male, siamo già andati meglio! Io neanche ho notato che era un parco giochi da quanto sono morto in fretta! Però, era un parco giochi carino! Tocca a me scegliere! E quindi metto... Un castello! Un castello! Vai, mi piace il castello! Allora, corri! Io vado subito! Ferre! Mamma mia, stai correndo! Sto correndo! Ok! Che ti devo dire! Allora, io sto qua! Ok, io cerco di andare in alto! Mi sono messo nelle scale! Ok! In mezzo a una torre, mi vedi? Io sono su una torre in questo momento! Eh sì, ti vedo! Siamo vicini, siamo vicini! Sto leggermente più in basso di te! Guardami! Mi vedi? Sì, ti vedo, ti vedo, ti vedo! Io me lo sento! Mi arriva una bamba in testa adesso, eh! Aia! Allora, le puoi anche vedere arrivare, però! Guarda in alto così riesci un minimo a schivarle! Più o meno! Perché arrivano davvero veloci! Sì, arrivano velocissime, però... Uh! Ok, quella mi ha schivato! Ferre attento! Su piede! Sono circondato ovunque di lava! Se mi arriva adesso una in testa, credo di essere... Cosa? Sto bene? No, Steph, sono caduta nella lava! Ferre, non morire! Sono morta! Morta? 40 secondi! Siamo andati 10 secondi peggio rispetto all'altra mappa! Mi è venuta molta ansia questa volta! Secondo me in questa mappa però possiamo fare di meglio! Ferre, dove ci mettiamo questa volta? Qualche idea? No, perché la mappa non è molto grande, è abbastanza delicata! Ma sai che forse qui nel fence, così come ti sei messa tu, non è male? Dici, dici... No, ti è appena arrivata la bomba addosso! Seconda bomba addosso, Steph! Non è una buona idea! Non lo è per niente! Guardate, Consolini! Aiuto, 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 aiuto! Sono circondato dalla lava! Uh, però questa roba... Questa lampada qua mi sta difendendo, Ferre! Ok! Quindi sono abbastanza sicuro! Sì, mi piace! Sei riparato dalle là! Aia! Vedi? Vedi che sopravvivo? È buono come posto! È buono, è buono, è buono! Mi piace anche il tuo però, mi piace anche il tuo! Dai che riusciamo a battere il nostro record! Le sto guardando mentre mi arrivano! Ah, ah, ah! Ok, questo è addosso! Oh, mamma mia! Resta lì, resta lì, resta lì! Ritorno in quell'angolo! Che male! No, Steph, non ce la faccio! Aiuto, vado nell'altro angolo! Sono morto! No, Steph, resisti! No, no, sono morto! 44 secondi e sei morto! 44! Io ce l'avrei fatta perché sono andata nell'altro angolo e forse un altro pochettino avrei resistito! Io pensavo di essere davvero immortale lì e invece no! Comunque 44 secondi, pur sempre meglio dei 40 di prima, quindi non è andata male! Allora, scelgo al posto tuo la prossima mappa perché so già che ti piacerà tantissimo! Ed è questa qua! Allora, dimmi quando sei pronta! Ok! Che la seleziono e la vedrai direttamente! Ok, tanto so già che ti piace un sacco! Vai, Fer, entra, 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 entra! E però non si capisce che cosa sono, niente, niente! Cosa dove va a essere? Sono dei dinosauri questi in legno! Ah, non si capisce! Dai, più o meno! Allora, un po' di fantasia si capisce! È un po' tanta fantasia! Io mi metto sotto il dinosauro! Dici? Sì! Mi sembra anche una buona idea! Sono nella pancia del dinosauro! Vado sotto l'altro dinosauro, vai! Tu nel tuo, io nel mio! Come si chiama il tuo dinosauro, Fer? Eh, Bobby! Bobby! Però sto prendendo fuoco dentro Bobby, Stef! Il mio è Vincent! No, non rubare il mio nome dei dinosauri! Era il nome del mio dinosauro, Swark! Comunque non ha funzionato, Stef! Ha iniziato a prendere... Bobby ti ha fatto morire, eh? Sì, mi ha fatto morire! Dai, Fer, ma siamo durati 29 secondi, però! Sì, è una tristezza! Ma, Fer! Non ci riproviamo! Allora, ho capito che i dinosauri non ti riparano niente! Cioè, se arriva la bomba, prendi fuoco in legno! Per favore, ti chiedo di concentrarti, perché qua non mi puoi durare 29 secondi! Cioè, ti prego, eh! È quello che muore sempre! No, no, no! Stai zitto! Io, guarda, da quando ci siamo riscaldati non sto mai morendo! Allora, Stef, stai zitto, perché sennò io me ne vado! Ma che cosa te ne... Guarda, se te ne vai, almeno faccio dei punteggi migliori! Sei pronta? Sì! Vai, andiamo! Vai, vai, vai! Allora, dove mi metto? Questa mappa è molto più difficile delle altre, comunque, eh! Secondo me ha una difficoltà aggiuntiva! Io mi metto sotto un albero! Oh, non so se non vuoi dare sotto l'albero! Come quando più... No, 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 no! Sta già bruciando! Perché bruci... No! Sto giocando! No! 13 secondi! 13! Io gli ho detto, fai su serie adesso, Ferre, ti prego! Mi dura 13 secondi! Rendiamoci conto con chi devo giocare io! Vai, Ferre! Vai, vai, vai! Ci sono, ci sono, ci sono! Allora, io non so dove mettermi! Oh! Ti ha preso proprio in faccia! Sei morto! Cambiamo mappa, grazie! Non mi piace! I dinosauri non mi piacciono! Ma non siamo fortunati! D'altronde i dinosauri si sono estinti in questo modo, quindi portano proprio sfiga, secondo me! È l'unica spiegazione! Vai, entra! Voglio resistere almeno un minuto in una mappa! 3, 2, 1, via! Andiamo! Vai, 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 vai! Oh, mamma mia! Voglio vederla, però! Ma ci possiamo rampicare, Ferre! Ci possiamo rampicare! Arrampicati! Ma io sto scattando tantissimo, però! Ma davvero? Sì, la torrifa, diciamo che al mio pc non piace! Io no, no, no! Allora, io sono sotto! Sotto? Sì! Tutto giù? Sì, tutto giù! Dici che è la cosa migliore da fare? Per ora un po' mi sta riparando, anche se stanno arrivando davvero tante bombe! Quindi non so se non... Eh, io sono! No, il fatto è che mi stavo rampicando ma sono caduta, quindi non è che ho tanta scelta! Perché ormai alla base è quasi tutta rotta! Sì, no, no! Quindi non riesco a dire... Ho visto che esploso praticamente tutto! Io sono molto in alto, ma non sono in cima! E devo dire che per ora sta portando davvero bene! Quindi cerca di sopravvivere tu, Ferre, perché io qua penso di durare anche un po'! È tutto nelle mie mani! Esatto, Ferre! Esatto! Allora, cos'è? Allora, ti racconto... No, Steph, ti racconto qui, è tutto fuoco! C'è caldo! È tutto fuoco! C'è tutto fuoco, fammi vedere! È tutto fuoco, Steph! È tutto fuoco! L'ho noto, l'ho noto! Sai cos'è il vantaggio di stare sopra torri felle? Qua si può formare fuoco ma non lava! Lo sai che vuoi spegnere il fuoco? Quindi non posso morire! Davvero? Io lo sto spegnendo! Col sinistro? Sì! Io no! Evito di... Oh, mamma mia! Però stanno diventando... Io non posso! Vabbè, Ferre, concentrati! 3 secondi e siamo un minuto! Aiuto! 2, 1... Un minuto fatto! Ok, ok, resisti! Cerca di resistere! Sto prendendo fuoco tantissimo! Ma sai che io sono totalmente tranquillo? Ma stanno ancora cadendo cose? Sì, io le vedo! È come se le vedo! Ma è vero? Allora, il problema è che io ho preso fuoco per un sacco di tempo! Ahia! Solo due cuori e mezzo! No, Steph, non morire! Perché resistiamo un sacco, non morire! Resisti! Che male! Oh, mamma mia! Si sta distruggendo tutto! Uh! Uh! Aiuto! Mi stanno per cadere le bombe in testa! Perché la torre Iferle è quasi tutta! Ferre, ti vedo! Guarda in alto! Eh sì, che ti vedo io! Ciao! Vedi quanto c'è fuoco qua! È un disastro! Non è una bella zona! Però stiamo resistendo un sacco! Siamo a 90 secondi! Un minuto e mezzo! Se arriviamo a due minuti è un record assoluto! Dai che ce la fai, Ferre! Dai che ce la fai a resistere! No, non credo, Steph! Sì, io ci credo in te! Non credo, aiuto! Aiuto, aiuto, aiuto! Sto in mezzo qua! La torre Iferle mi sta difendendo davvero bene! Sì, no, difende bene! Io ho solo due cuori! Ti dico, c'è ancora un sacco di costruzioni intatta! Quindi, secondo me, si può... Oh, mamma mia! Oh, cavolo, un cuore! Ferre! Aiuto! Ferre! Allora, prossima bomba! Sto bruciando! Sto morta! Mezzo cuore! Sono in mezzo a due fuochi, Ferre! Aiuto, Steph! Ho solo mezzo cuore! Mi sta esplodendo tutto intorno! Morta! Andata? 122 secondi! Due minuti e due secondi! Wow! Buono, buono! Questa, vabbè, era anche, diciamo, un po' più semplice, questa app! Perché la torre di ferre ti ripara davvero bene! Ripara benissimo! Siamo stati davvero bravi! Sono felicissimo! E adesso, però, Ferre, dobbiamo provare con l'ospedale! Vai! Teoricamente è un posto chiuso! Quindi potrebbe essere abbastanza semplice! C'è pure l'hotel e il Tempio Romano! Sì, ma sono bellissime! Poi la... Ah, è pieno di cose belle! Vai, scegli noi un e andiamo! Scegli noi un e andiamo! Facciamo... Mi ispira più il Tempio Romano, scusate! Sono troppo curioso! Vieni, Ferre! Ma io ero all'ospedale! Oh, no, ma fa schifo! Ah, vabbè, ormai ci siamo! Gioca, Steph, gioca! Eh, certo che gioco! Ma io sto qua fermo! Perché... Aia! Stavo per dire che era sacro il Tempio e che quindi... Oh, mamma mia, Ferre! Oh, no, aia! No, è stra difficile! La sabbia si distrugge in fretta! Sì, 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 sì! Quindi è molto difficile! E c'è pure il lava ovunque, Ferre! Allora, vi stai seguendo? Vieni verso di me, vieni verso di me! Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Qua siamo più protetti perché c'è più... Vedi, c'è più sabbia! Sì, se lo dici tu, va bene! Allora, se riesgiamo un minuto in questa mappa, è fantastico! Voglio un premio! Ai! Vieni, 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 vieni! Accidenti! Quanto hai? Quanto hai, Ferre? Un cuore! Un cuore! Un cuore, non ce l'ha fatto! Ok! Non smettevo di bruciare! Vabbè, 36 secondi, sono buoni! No, no, sono buoni, sono buoni, sono buoni! Era una mappa difficilissima, davvero complicata e 36 secondi sono davvero buoni, mi butto in mezzo alla lava! Adesso facciamo l'ospedale che secondo me è un po' più semplice, perlomeno lo spero! Allora, ospedalino, ok, sei pronta? Sì! Inizia ad andare, vieni, Ferre! Ci sono, ci sono! Ma... Uh, ci sono le scale! Saliamo verso l'alto? Ma io voglio stare verso il basso! Uh, ok! E devo scegliere una stanza! Allora, queste stanno già bruciate! Oh, no, 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 Ferre, Ferre! Sceglie una stanza, vieni qua! Ferre, 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 Ferre! Oh, cavolo, no, no, Ferre! È fatto tutto in lana! Ferre! Ti ho visto cadere di sotto! Aia! Cosa faccio, Casolini? Non lo so! Cosa posso fare? È una pessima idea! Sembrava così bello l'ospedale? È invece nella lana! È invece capito di lana e quindi prende subito... Stiamo qua, Ferre! Siamo al limite... Aia! Sono morta! E Ferre, sono accorto! Sono morta! Quanto abbiamo resistito, pochissimo! No, 31 secondi, dai! Ti ha preso in pieno la bomba! L'ho sentita qua nella capossa, te lo dico, l'ho sentita tutta! Io ho sentito l'aria della bomba che arrivava e dell'esplosione! Riproviamo la cosa nell'ospedale perché è davvero simpatica! Restiamo al piano di sotto però stavolta! Entriamo ma restiamo al piano di sotto! Questa stanza porterà bene, me lo sento, in questo letto! Mi codico pure, guarda! Ok, ciao Ferre! Ciao, ti siete trasportata direttamente? Eh sì, perché non mi è partita! Guarda sopra la tua testa! Bene! Ferre, è meglio andarcene! Ferre, 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 ferre! Vieni da questa! No, anche io ho provato! Qui, 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 qui! A stare in una stanza non è stata una buona idea! Fin quando non vediamo bruciare, rimaniamo in un punto! Quando brucia andiamo in un altro punto! Fin quando non finisce tutto l'ospedale! Spendo! Ferre, corri! Attento a non cadere nella lava! Aia! Corri a non cadere nella lava! Ok! Veloce! Aia! Ok! Aia che male! Aia che male! Dove vado da qua? Ok, qua c'è un po' di prato! Dove? Ferre, qui! Ok, ok, ma stiamo... Vieni qua! Vieni verso di me! Stiamo in un angolo, Steph! Uh, ce l'ho fatta! Io sto viva, però! Io ero viva con due cuori lì sopra! Ci avevo resistito! 38 secondi! È davvero difficilissima! Che vergogna! È davvero difficilissima quella mappa! Sì, sì, sì! Ferre, sai che cosa è questo? No, dove siamo? Prova a indovinare? Eh, non lo so! Dai, a livello estetico? Un hotel, un hotel! Vieni qui! Un hotel, vero? In questo piano, in questo piano, in questo piano! Sì, Ferre, è l'hotel! E non mi rispondevi! Ok, allora! Come puoi notare, è in legno! Però ti spiego! Quando brucia tutto, noi sfondiamo questo vetro! Ok! Lo puoi sfondare il vetro, Ferre? Perché non posso! Sì, io posso fare tutto! Ok, bucamelo, bucamelo, bucamelo! Ok! Quando inizi a bruciare tutto qua in modo troppo pericoloso, ci buttiamo di sotto! Ti piace? Sarà pieno di lava, vero? Sì, però... Sì! Per ora, guarda, Ferre! Abbiamo anche il nostro lettino qua! Guarda che bello! Almeno, perché lì nella hall c'è un po' di fuoco! Ci stiamo rilassando! È una vacanza meravigliosa! C'è caldo! Magari c'è qualcosa qui dentro! È normale, ma siamo ad agosto, quindi c'è caldo! È normalissimo! Allora, più o meno sì, questa mappa rispecchia le temperature che stanno facendo in questi giorni qui a Cagliari! Uguale, uguale! Come stare in mezzo alla lava! Perché sta facendo un caldo infinibile! Ferre, mi puoi bucare questo vetro? Quale? Questo, così scappiamo via! Perché diciamo che il fuoco ci sta iniziando a raggiungere! Ma non penso che puoi scappare! Aspetta! Sì, 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 Ferre, girati e dimmi quando il fuoco è un passo da te, ok? E mi dai via per buttarci giù! Siamo già a un minuto! Sta funzionando il mio piano! È stato in fretta il tempo qua! Eh... Ferre, ho una brutta notizia! Non ci sono posti dove buttarci, Ferre! Sì, e sono stati tutti bruciati con la lava! Sì, sta arrivando il fuoco oltretutto! Sì, Ferre! Sta arrivando, Ferre! Siamo imprigionati, Ferre! Cosa facciamo, Ferre? Ci guardiamo negli occhi finché non moriamo! Rimanemo qua, aspettiamo! Guarda davanti, guarda davanti! Ti riesci a vedere? Sì! Guarda tutto il diso... Oh, cavolo, è arrivato il fuoco! Ahia! Ahia! Arrivato il fuoco! Ahia! Io provo... Qua! Qua, 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 qua! Non c'è fuoco! Io sono qui al lato! Eh, mi sa che sta per bruciare! Eh, mi sa che adesso brucia e io cado! Allora sto qua! Ok! Ferre, come stai? Allora... Io ho due cuori, io ho un cuore, io sono morto! Tre cuori e mezzo! Cavolo, ce l'avrei fatta ancora un po'! Sono rimasta! 98 secondi! Sono rimasta, praticamente, nel corniciole, sull'angolo, cercando di non cascare! Avrei potuto resistere l'altro pochino! Davvero, davvero carino questo hotel! Quelli dove prende fuoco tutto inizia a disintegrarsi bruciando! Eh, certo! Sono le mappe più divertenti, senza dubbio! In ogni caso, ci fermiamo così! Fateci sapere se la mappa vi è piaciuta! Ovviamente, singolo episodio giusto per divertirci un po'! È stata davvero, davvero simpatica! Quindi speriamo che vi sia piaciuta! Tanti likes, commenti e sondaggio se volete vedere altre custom maps su Minecraft! E ci fermiamo così! Bene, se vi è sceso di tutto, lasciateci un like! E se la prima volta che avete visto il nostro video, potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri figli! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!